Questo libro viene dall'Australia, un continente molto lontano da noi, e si intitola Hattie da una mano, di Jane Godwin e Davina Bell. Dedicato alle nostre mamme, Sue e Vivienne, per tutte le volte che ci danno una mano. Era una giornata molto impegnativa a casa di Hattie. Questa sera ci sarebbe stata la festa di compleanno del papà. La mamma disse ad Hattie, mi devi dare una mano. Per favore, lava il cappello dalla testa di Lottie. Ma le piace, disse Hattie. Ma sta dormendo, disse la mamma. Lottie dorme molto, rispose Hattie. C'era molto da fare, e una delle attività di Hattie era fare i segnaposti, così gli ospiti sapevano dove sedersi. Chi viene alla festa, mamma? chiese Hattie. Nonna Anna, zio Robbie, la prozzia Susan, con il cugino Sam. E dove mettiamo Lottie? chiese Hattie. Potrebbe stare lì, rispose la mamma. Quando hai finito di fare i segnaposti, vai a riposare, Hattie. Oh, credo che sia troppo tardi per andare a fare il pisolino. Dobbiamo preparare la torta di compleanno prima, mamma. Hattie ruppe le uova. Poi agitò il setaccio per passare la farina. E infine misurò la dose di zucchero. Presto per la casa si diffuse un profumo di torta calda. Vai a riposarti, Hattie, finché la torta non si raffredda. Ma per il mio riposo, mamma, potresti sdraiarti sul letto vicino a me. Ah, non ho tempo di riposarmi oggi, rispose la mamma. Devo ancora finire i biscotti, mettere i frutti di bosco sul dolce, sistemare i fiori intorno alla casa e mettere ordine dappertutto. Ma non ci vorrà molto tempo, disse Hattie. Vieni a fare un riposino con me. No, mamma, non sopra il letto, disse Hattie. Infilati sotto le coperte, così possiamo coccolarci un pochino. Però devi toglierti le scarpe. Non è più accogliente, chiese Hattie quando si mise al caldo sotto la trapunta insieme alla mamma. Ti avevo detto che sarebbe stato meglio, soltanto io e te. D'accordo, ma solo pochi minuti, rispose la mamma. Sanno la tua piccola ragazza? Chiese Hattie. Certo, Hattie, sei la mia piccola ragazza. Sarò per sempre la tua piccola ragazza? Oh, certo, sarai per sempre la mia piccola ragazza. Dimmelo ancora, mamma. Adesso chiudi gli occhi, Hattie, e riposa. Hattie chiuse gli occhi, stretti, stretti. Aspettò, aspettò ancora, ma il sonno non venne per niente. Che cosa buffa, mamma, disse. Sono troppo vecchia per avere sonno di giorno. Ma la mamma non si muoveva e i suoi occhi erano chiusi. La stanza era davvero molto silenziosa. Hattie guardò la mamma respirare profondamente mentre dormiva e sembrava anche lei una piccola ragazza. Povera mamma, era veramente molto stanca. Ci sono, pensò Hattie. L'aiuterò io? Hattie ricordava tutte le cose che avrebbe dovuto preparare per la festa. Prima di tutto si ricordava dei biscotti. Così, unì insieme tutti i biscotti. Poi la mamma aveva detto che doveva mettere i frutti di bosco sulla torta. Mmm, che buoni! Erano proprio freschi e dolci. Mmm, che altro aveva detto? Ah già, i fiori. E Hattie sistemò i fiori per tutta la casa. Poi mamma disse che doveva mettere ordine dappertutto. Ma appena Hattie cominciò a fare qualcosa, la piccola Lottie iniziò a svegliarsi. Non ho tempo per i bambini che piangono oggi, disse Hattie, e tu devi stare buona con il tuo cappellino da festa. Hattie spazzò per terra e apparecchiò la tavola e mise ogni cosa della cucina a posto. Poi l'orologio della nonna suonò le sei del pomeriggio. Il campanello della porta fece drin e una chiave entrò nella serratura. Hattie si guardò intorno per essere sicura che fosse tutto pronto per la festa. Arrivarono tutti insieme. Ciao Hattie, disse nonna Anna. Oh, che fiori meravigliosi! Ehi, ciao, disse zio Robby. Mi piace il tuo castello di biscotti. Che schifezza stai mangiando, Lottie, disse annusando la prozia a Susan. Hattie, chiese il papà, dov'è la mamma? Sta dormendo, sussurrò Hattie. Mentre il papà andò a cercare la mamma, ognuno prese posto a tavola. Mi piace molto il mio segnaposto, disse nonna Anna. Che torta mostruosa, disse il cugino Sam. Somiglia proprio a tuo padre, disse ridendo lo zio Robby. Oh, santo cielo, disse la prozia a Susan. Arrivò la mamma. Aveva tutto il viso assonnato. Hattie abbassò lo sguardo per terra. Forse la mamma era arrabbiata. Oh, Hattie, hai fatto tutto questo lavoro. Che cosa avrei fatto senza la mia piccola ragazza? Anche Lottie ha aiutato, disse, un pochino. Erano comode le ginocchia di mamma. E tutti cantarono tanti auguri. E le candeline furono accese. Hattie sbadigliò. Sono pronta per il mio pisolino, mamma. E le candeline furono accese.